Assolutamente no e questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto la strada referendaria perché siamo più che convinti che non finirà assolutamente niente il 31 dicembre. Il referendum serve a ricordare che noi dovremmo vivere ancora in una democrazia e che il popolo vuole la democrazia. Del resto la Gran Bretagna, che è uno dei paesi più vaccinati di Europa, dimostra che appunto il Green Pass non è assolutamente una misura sanitaria ma esclusivamente una misura politica, è stato apertamente ammesso. Ma infatti non ce l'hanno il Green Pass, dice il professor Rasi. Esatto, non ce l'hanno proprio perché hanno 45 mila nuovi casi. Sono vaccinati e non dovrebbero aver bisogno di Green Pass perché sono altamente vaccinati eppure abbiamo 40 mila contagi al giorno, quindi questo dimostra che pur essendo vaccinati i contagi ci sono, il virus circola e le persone si contagiano anche essendo vaccinate. Ma qui manca proprio la logica, adesso io non sono un giurista, non voglio entrare nei dettagli tecnici ma manca proprio la logica. Cioè il fatto che ci siano dei contagi e dei morti anche se c'è il vaccino o se c'è il Green Pass non significa che il vaccino o il Green Pass non funzionano, significa che non assicurano il rischio zero. Esiste una cosa che si chiama scenario controfattuale, cioè come saremmo messi se non ci fosse il vaccino o il Green Pass? L'abbiamo visto l'anno scorso, 100 mila morti, quindi uno deve aver chiaro qual è l'alternativa, l'alternativa non è togliamo Green Pass e rispettiamo. Più ci si infetta più si muore, questi sono i fatti. Poi bisogna avere il coraggio di dire che alcune persone vogliono avere più infezioni per essere più libere di andare al cinema senza dover esibire il cellulare. Questa è l'estrema sintesi, la sostanza. Vuol dire che se si fanno le cose che dite voi, il virus circola di più. Se si fanno le cose che dite voi, ci si ammala e si muore. Noi pensiamo che l'Italia sia ad esempio, invece in Europa e nel mondo parlano di dittatura, questo è il New York Times e poi i giornali chinesi, insomma appunto i loro stesi dell'obbligo del Green Pass e dicono che l'Italia è il primo paese di una democrazia occidentale che ha il posto dell'obbligo del Green Pass. Non facciamo una bella figura all'estero. No, allora una volta, se no non vi capisco.